Servizi nuovi o no? Rieccoci, rieccoci in diretta, continuiamo il nostro racconto di questa lunga edizione straordinaria di fatto iniziata già ieri pomeriggio alle prime avvisaglie della gravità di quanto era accaduto perché poi lo ricordiamo, lo diceva anche Zaia ieri, si parlava di questo crollo poi mano a mano che le ore passavano si è capito, ci si è resi conto della gravissima situazione Poi dicevamo poco fa che c'è anche una lettura piccolissima, una lettura politica della quale avremmo dovuto discutere poi questa sera a Ringa, cioè era la giornata dell'incontro tra Draghi e Conte, quindi la tenuta o meno del governo, ecco la volontà ovviamente del Presidente del Consiglio di essere a Canazzei, di incontrare famiglie delle vittime, dei reclamati, ha fatto saltare e slittare quell'incontro che quindi sul fronte politico per quanto già non avesse forse alcuna importanza nei confronti dei problemi seri che abbiamo da affrontare, figuratevi adesso ovviamente però la liturgia della politica e di queste crisi vere o presunte bisogna anche raccontare questo ne parleremo stasera ma insomma chiaramente staremo più sul dramma della marmolada che è cosa ben più seria Peraltro c'è anche una, ecco Tiziana è arrivata in questo momento, quindi fra pochissimo ci colleghiamo con Tiziana Bolognani dal Palazzo del Ghiaccio di Canazzei, c'è anche già comunque una lettura politica anche di questo disastro, lo raccontavamo prima, c'è Europa Verde che parla di immorale in azione del governo sul fronte ambientale, quindi qualcosa comunque dovrà rispondere Draghi Una ricetta qualcuno la deve dare perché il problema qual è? O affrontiamo il problema del gas che manca, dell'energia elettrica che corre nei costi e capire il modo di come produrre tutte queste energie, queste fonti di energia per tutti noi oppure si trova un'alternativa, d'altronde lo stesso Draghi ha detto che possiamo tornare anche ad estrarre il nostro gas, è una delle valutazioni ma se andiamo ad estrarre il nostro gas che costa molto meno rispetto ad andare a comprarlo dalle altre parti bisogna poi ridurre la quota ovviamente di acquisto dall'estero, poi c'è tutto il tema della subsidenza a proposito di territorio e quindi l'abbiamo raccontato tante volte anche con il nostro Lucio Zanatula e il territorio di Rovigo altri paesi come l'Olanda sanno risolverlo un problema di questo tipo c'è poi la desalinizzazione che è un altro aspetto di questo tipo il vicino Friuli Venezia Giulia che ci vede e ci segue su Antena 3 ha presentato un progetto proprio nell'escorsione che è con Israele che lo fa da tempo di un grosso impianto per utilizzare l'acqua di mare perché di questo stiamo parlando sono tutti confronti che si devono fare non solo sull'aspetto delle scelte politiche ma di politiche industriali di un paese quindi non solo nel dibattito tra i politici però se vogliamo riscaldamento di anni d'inverno e il fresco d'estate una soluzione anche di indipendenza bisogna cercarla altri aggiornamenti sul fronte dei soccorsi mentre ci stiamo per collegare con Tiziana Bolognani le ricerche devono continuare per i prossimi giorni abbiamo programmato lo stesso tipo di attività di oggi ossia il servolo con droni l'individuazione di qualsiasi reperto si va lì in maniera molto veloce chi scende dall'elicottero fa una sorta di documentazione fotografica si prende il reperto e ce ne andiamo via lo ha spiegato il Presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Maurizio Dall'Antonio sulle modalità delle ricerche della marmolata teniamo monitorato il pendio giorno e notte è aggiunto e si va solo a recuperare qualcosa in superficie non possiamo più scavare la massa di neve si è talmente consolidata che non si può incidere nemmeno con un piccone ha concluso il Presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino quindi questa è un'altra notizia la massa di neve è diventata una massa di cemento sostanzialmente che non si può incidere nemmeno con un piccone dice il Capo Nazionale del Soccorso Alpino questo è un altro elemento che rende difficile Tiziana, non so se hai sentito questa è una notizia molto importante ma dicevamo già che è rischioso e difficile intervenire nell'area del crollo ma ora si sarebbe stratificata in modo tale da rendere difficile anche scalfirle quindi evidentemente le ricerche Eh sì, è proprio così è perché quando si staccano i blocchi di ghiaccio assieme ai massi è una situazione differente dalla semplice valanga di neve e quindi lo strato si ricompatta ulteriormente con i detriti con i sassi, i massi che trova la ghiaia che trova per terra e quindi si ricompatta un'altra volta e lì c'è poco da scavare anzi per la verità non si può scavare non è come la ricerca in valanga con l'artva che è quel sistema di sonda che scende proprio nella neve si infila nella neve e percepisce la presenza di corpi estranei lì oramai è diventato tutto un blocco e le ricerche sono evidentemente rese ancora più complicati mi viene da dire che ci vorrebbero quei sistemi che sono dei precursori delle valanghe cioè quei sistemi che vengono utilizzati che sono stati installati a Malga Ciappella sopra il copone di Rocca Pietore sono quei sistemi all'avanguardia che creano delle micro esplosioni proprio per evitare che si formino accumuli di neve importante che poi insistono sulla strada principale ebbene probabilmente mi viene da dire che per fare questo tipo di ricerche ci sarà bisogno di micro esplosioni per cercare di spaccare la crosta la superficie che si è nuovamente ricompattata questo sul fronte delle ricerche noi ci siamo spostati dal centro di coordinamento dei soccorsi al comando dei vigili del fuoco di Canazzei nel luogo del dolore siamo al palaghiaccio scola di Canazzei è qui che è stata istituita la camera ardente delle vittime della tragedia di ieri lo vedete alle nostre spalle a presidiare ci sono le auto dei carabinieri con i militari dell'arma un'ambulanza della Croce Bianca e un gazebo dei vigili del fuoco lì si entra e lì purtroppo è il luogo nel quale i familiari delle vittime già questa mattina hanno iniziato ad arrivare per il difficile, tremendo non riesco a spiegarlo in altro modo questo tremendo rito del riconoscimento delle salme 4 per il momento sapete che i morti accertati sono 7 non sappiamo se le altre 3 salme sono già state recuperate e portate all'interno dello stadio del ghiaccio questo ancora non ci è dato di sapere e quindi sicuramente sono informazioni che si avranno di ora in ora nel proseguo anche del recupero dei corpi delle vittime che ho detto sono 7 le persone ferite 8 di cui 2 in condizioni gravi uno è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Feltra il secondo all'ospedale di Treviso e per queste due persone si teme per la vita di queste due persone le loro condizioni cliniche sono considerate gravissime poi ci sono i dispersi sono 14 o meglio persone nomi di persone che sono state reclamate lo hanno detto sia il presidente del Veneto Luca Zaia che il presidente della provincia autonoma di Trento fugati reclamati reclamati da familiari che non hanno più visto rientrare a casa i loro cari e che hanno chiamato quel numero con il prefisso 0461 e il prefisso di Canazzei che è stato istituito ieri poco dopo l'evento drammatico nel momento in cui ci si è resi conto che la conta delle persone poteva essere sicuramente importante e si è partiti subito dal verificare le targhe delle auto parcheggiate attorno al lago di Fedaia da dove parte il sentiero che conduce all'attacco della via normale la via normale che da Pian dei Fiacconi arriva a Punta Penia cioè la vetta della Marmolada oltre 3.300 metri di quota è lì che le cordate erano impegnate nella risalita o nella discesa questo non lo sappiamo ed è lì che al distacco del Seracco che ha preso una velocità di centinaia di chilometri allora ha travolto letteralmente le persone trascinandole a valle in una, come dire, un'immagine che noi abbiamo visto c'è un altro elicottero che in questo momento sta sorvolando ed è sempre l'elicottero credo dell'aiuto alpin di Bolzano che è il nostro, diciamo così è il nostro Suem, il nostro falco l'elicottero che si muove in Dolomiti volevo tornare un po' a quello che tu ci stavi descrivendo poco fa perché è fondamentale capire adesso dopo che sei quasi cementificato questo ghiaccio crollato soltanto all'ora di pranzo di ieri causando il dramma che vi stiamo raccontando quelle microcariche di cui tu parli chiaramente è cosa da altissimi esperti perché allo stesso tempo bisogna riuscire a sgretolarlo per poter cercare ovviamente altri corpi altri, speriamo, sopravvissuti diciamo le persone reclamate ecco, possiamo dire questo anche se molti abbiamo detto e sentito e capito forse sono finite nel crepaccio quindi rende tutto più complicato anche nell'operazione di soccorso ma non solo quindi per cercare ma bisogna stare attenti ovviamente a non creare nuovi distacchi nuove cadute quindi è un'operazione di una delicatezza estrema certo, certo perché se il manto abbiamo detto adesso si è solidificato è vero che questo distacco di Seracco ha provocato un'instabilità generale di quella porzione di ghiacciaio sulla marmolada ha provocato una situazione di instabilità al punto che la risalita al ghiacciaio che quindi la marmolada è stata chiusa ai turisti e quindi non c'è più nessuno che può risalire neanche per le vie brevi cioè con gli impianti quindi l'ipotesi che si può fare per aiutare le ricerche è quello dell'utilizzo di microcariche esplosive che possano disgregare perlomeno superficialmente il materiale che via via si sta solidificando e si sta compattando ricompattando per poter avere posso dire qualche speranza di ritrovare non dico in vita ma perlomeno i resti delle persone travolte questo è come dire una ipotesi che circolava questa mattina e si faceva per l'appunto riferimento a questi apparecchi che sembrano delle grandi bombole ve le abbiamo fatte vedere in servizi quando sono stati sistemati a Malga a Ciappella sembrano dei grandi bomboloni del gas o dei grandi bomboloni per delle grandi cisterne d'acqua che però al loro interno hanno un sistema che monitora lo strato della neve e nel momento in cui arriva ad una certa altezza hanno la capacità di provocare delle micro valanghe di disgregare il manto superficiale per evitare che questo possa poi scivolare con il innalzamento delle temperature scivolare e finire lungo la strada che sale da Roccapietore fino al passo Fedaia ne sono stati sistemati perlomeno una decina e quello è un sistema come dire fondamentale per evitare tragedie di stacchi improvvisi che possono evidentemente travolgere le auto in passaggio auto moto motocicli ma anche biciclette questa mattina quando siamo saliti da Belluno il traffico era impressionante non solo di auto ma pure di motociclette e di ciclisti che risalivano il passo Fedaia a grupponi evidenti quindi questa è una situazione che si ripete anche durante la stagione autunnale la stagione invernale dove la neve cioè quando la neve può cadere già anticipatamente sia verso la fine dell'estate ma insomma non è stato caso raro di vedere nevicare a fine agosto e quindi ecco quella potrebbe essere un motivo di pericolo se questa è una soluzione per agevolare i soccorsi potrà essere una soluzione per agevolare i soccorsi io penso che anzi sono certa che verrà presa in considerazione dagli esperti e sono tantissimi li avete visti le rappresentanze tutti oggi nella sala stampa che è stata allestita alla comando nella sede del comando dei vigili del fuoco di Canazzei praticamente uno spiegamento di forze e di mezzi imponente con il capo dipartimento della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio che ha assicurato non ce ne andremo finché ci sarà data la forza di continuare di lavorare per recuperare per portare a termine queste operazioni che sono evidentemente molto complicate e già da ieri che si trattasse di un ambiente ostile ancorché impervio era del tutto evidente quel buco lasciato sulla parete del ghiacciaio è un cratere di fatto e quindi noi non sappiamo se dentro quel cratere siano finite anche gli alpinisti che erano incordata è l'ipotesi più drammatica che ci si possa immaginare e questo è difficile in questi momenti non solo raccontare che cosa è accaduto ieri perché le immagini sono eloquenti e parlano da sole sono talmente impressionanti che a memoria non ho ricordi ho ricordi di immagini di balanghe molto importanti di frane altrettanto importanti l'ultima lo ricorderete la scorsa estate a San Vito di Cadore che per un effetto ottico sembrava quasi potesse raggiungere la strada la 51 di Alemania ma una cosa del genere davvero a memoria io non la ricordo se non nei documentari quelli che ci fanno vedere il distacco di Seraki sull'Himalaya e sulle grandi vette alpine scalate da alpinisti provetti come Reinhold Messner che giusto ieri ha avuto occasione di parlare del distacco dei Seraki che ha detto non sono episodi rari il distacco dei Seraki è una cosa comune probabilmente non ci si attendeva che in marmolada potesse accadere una cosa di questo genere in questo periodo così in maniera così repentina e anche di portata talmente ampia che l'immaginazione insomma ci può portare riportare solo alle immagini di un di un film catastrofico certo e di catastrofe Tiziana ascoltami accadere resta collegata resta con noi collegata chiedo alla regia adesso faremo vedere anche qualche qualcuno dei servizi che stanno preparando le nostre redazioni coinvolto ovviamente in questa in questa tragedia chiedo alla regia di far vedere questo che è il video simbolo purtroppo del crollo della torre di ghiaccio enorme l'abbiamo visto i numeri l'ampiezza i due campi di calcio che scendono giù a 300 km l'ora facciamo vedere poi queste immagini Tony il video il video con cui abbiamo aperto la nostra prima edizione che è un po' il simbolo di quanto di quanto accaduto perché vi leggo questa mail che è arrivata nella nostra redazione a Treviso eccolo qua di un 18enne di Oderzo che si chiama Matteo Battistella che credo la redazione stia proprio contattando in questo momento se ci vedi Matteo ti stanno contattando dalla redazione di Treviso dice Matteo Battistella 18 anni ieri ero con mio papà e mio nonno alla marmolada sono un testimone oculare verso le 12.45 dopo aver pranzato ai piedi del ghiacciai avendo visto il possibile peggioramento meteorologico abbiamo deciso di cominciare la discesa nei pressi dei resti del forte austriaco della prima guerra mondiale abbiamo incontrato una coppia che ci chiedeva informazioni su quanto mancava per l'arrivo al rifugio visto il meteo che stava cambiando visto il tempo che ci sarebbe voluto per arrivare al rifugio scrive Matteo le abbiamo consigliato di tornare indietro dopo circa 20 minuti dopo una piccola sosta per bere abbiamo udito un forte boato avevamo inizialmente pensato al temporale che si avvicinava oppure a un aereo che volava a bassa quota ma girandomi verso la montagna ho visto la valanga che veniva giù arrivati nei pressi del lago Fedaia abbiamo potuto osservare il vuoto lasciato nel viacciaio alcune persone ci hanno fermato chiedendosi cosa fosse successo e se erano presenti delle persone non riuscendo però noi a rispondere in modo certo vedendo scrive i numerosi video pubblicati tra cui questo molto probabilmente se non fossimo partiti saremmo stati colpiti poi allega una foto eccola qua la faccio vedere dal whatsapp lo dico alla regia di lui e suo papà un'ora prima questa è una foto scattata un'ora prima del crollo del Serraco un'ora prima credo che non sia improbabile che Matteo e suo papà credo ma casomai ce lo dirà lui possono essere quelle due persone che abbiamo visto in quel video e tutti ci siamo chiesti cosa possono aver pensato quelle due persone se lo rivediamo che hanno visto scendere che però sono in salita non lo so però diciamo che immagino ipotizzo si sono girati e hanno visto venire giù la montagna così raccontano non lo so comunque in ogni caso Matteo se ci sta ascoltando ci stanno contattando perché ci racconti proprio in diretta dalla tua viva voce 18 anni di Oderzo cosa hai visto che ci racconti quegli istanti tremendi se sei d'accordo intanto Ferdinando poi ci ricolleghiamo con la nostra Tiziana Bolognani farei vedere il servizio realizzato dalla nostra molto importante scusami Nicola anche perché praticamente ci dice io ho incontrato queste persone chiaramente non sa i nomi di queste persone una coppia ho consigliato tornati indietro e quindi poi chissà cosa è successo se sono tra gli scampati se paradossalmente hanno superato il punto del crollo insomma tutto quello che può essere successo sarebbe molto interessante riuscire a parlare con Matteo ci stiamo provando con Matteo Battistella di Oderzo 18 anni chi ha vissuto quel momento ed è sopravvissuto ha raccontato di aver alzato gli occhi convinto che stesse passando un caccia cioè quindi il boato il rumore era tale ecco lo dice era tale che si pensava fosse il passaggio di un aereo e invece nel girare la testa quegli escursionisti come altri quegli alpinisti hanno visto tutto quello che stava accadendo allora attenzia sul Brenta le parole il cordoglio per Davide Miotti e Erika Campagnaro questa coppia che risulta ancora tra i dispersi e non tra le vittime ufficiali ricordiamo sette vittime ufficiali tre accertate sono venete dovrebbe esserci il servizio realizzato dalla nostra redazione di Bassano dalla nostra Vanessa Banzato che abbiamo avuto più volte collegata durante la prima parte di questa lunga edizione straordinaria quando ancora era prima edizione questa mattina chiedo alla regia se riusciamo a mandare il servizio sui dispersi di Tezze è di sette vittime 14 dispersi tra cui quattro vicentini il bilancio della tragedia di domenica in marmolada dove il crollo di un seracco ha travolto le cordate di alpinisti che stavano salendo in vetta tra le salme riconosciute anche quella di Davide Miotti residente a Cittadella che si trovava in alta quota con la moglie Erika Campagnaro attualmente tra i dispersi la coppia viveva in via a Canave a Cittadella dove i due figli e i familiari stanno attendendo notizie con la speranza che almeno Campagnaro possa essere ritrovata sana e salva i due dal 1998 gestivano un negozio a bel vedere di Tezze sul Brenta Miotti era molto noto anche tra gli alpinisti della marca iscritto al CAI di Castelfranco Veneto ci troviamo davanti al negozio Su e Giù Sport il negozio che gestivano Davide Miotti Guidalpina 51enne e la moglie Erika Campagnaro di 45 entrambi residenti a Cittadella negozio molto frequentato proprio per la tipologia del materiale della merce venduta sia dal Bassanese che dall'Alta Padovana un grande amore per la montagna che Davide Miotti e la compagna Erika Campagnaro appunto portavano anche quotidianamente all'interno del loro negozio Oggi lunedì il negozio è chiuso per il turno infrasettimanale c'è una curiosità perché proprio tutti i lunedì vedete veniva organizzato il lunedì con la guida era proprio Davide Miotti esperta guida alpina che portava le persone che aderivano a questa iniziativa a fare delle escursioni in montagna lei conosceva bene i due solari lo conoscevo benissimo una persona squisita onesta di tutto di più una passione enorme per la montagna e basta conoscevo molto bene era un mio cliente e mi venivo a prendere la roba qua perché vo via in bicicletta e tutto qua insomma so che consumava tante arance perché lui diceva di andare a scalare quindi ha bisogno di vitamine e tutta questa roba va bene mi dispiace penso che la più grande cosa e le più grandi doti che aveva Davide è la passione per quello che faceva perché ci trovavamo anche qualche volta qui alle 5 del mattino lui che partiva io aprivo il bar dunque a quell'ora lì e dopo un grande legame che aveva con i suoi clienti con i suoi clienti con la sua gente è una cosa che mi ha scosso molto ti dirò nel pomeriggio il presidente del consiglio Draghi si è recato a Canazzei per vedere di persona cos'è successo oggi l'Italia piange queste vittime ha dichiarato il premier quanto accaduto ha continuato ci deve spingere a lavorare perché non accada più questo dunque il servizio di Vanessa Banzato poi l'abbiamo detto l'abbiamo raccontato i soccorsi i soccorsi che sono ripartiti questa mattina poi si sono interrotti perché c'era maltempo sono ripartiti da poco insomma una macchina che si è fermata soltanto per questioni di sicurezza ma che di fatto non si è mai fermata noi quando siamo arrivati lì siamo trovati davanti a un scenario pazzesco perché c'erano blocchi di ghiaccio e sassi enormi dappertutto abbiamo cominciato a cercare poi sono avanti altri soccorritori chiaramente e comunque le prime vittime sono state tirate fuori sono riprese all'alba sul ghiacciaio della Marmolada alle ricerche dei dispersi per essere poi sospese a causa della pioggia e riprendere nel pomeriggio in azione droni ed elicotteri troppo alto il rischio di ulteriori crolli per procedere a piedi sul ghiacciaio sono quelli che ti garantiscono di non mettere a rischio i soccorritori perché ovviamente se ci sono rischi di ulteriori distacchi mandare i soccorritori sotto è molto rischioso mentre il drone se dovesse succedere perdiamo un drone ma non è la fine del mondo quindi i soccorritori fisicamente vengono trasportati solo nel momento in cui si dovesse trovare qualcosa si cercano le persone si cercano gli oggetti che possono aiutare ad identificare le vittime la forza dell'enorme massa grigia di ghiaccio acqua e detriti precipitata verso valle a 300 km all'ora ha lasciato intatto ben poco si cercano zaini portafogli documenti per dare un nome e una risposta ai familiari dei tanti che ancora mancano all'appello e che ieri in una caldissima domenica d'inizio luglio avevano deciso di intraprendere l'escursione sulla marmolada una splendida giornata festiva e questo purtroppo ha aggravato il bilancio della tragedia fosse accaduto oggi sarebbero molte di meno le persone coinvolte alpinisti alpinisti comunque esperti incordata con la guida alpinisti che stanno scendendo la marmolada insomma con la corda attrezzatissimi con i ramponi e tutto quanto anzi sono stati veramente tanto sfortunati con questo caso qui la sfortuna la sfortuna il trovarsi l'abbiamo detto nel momento sbagliato nel posto sbagliato e poi abbiamo raccontato sempre questa mattina in attesa di collegarci di nuovo con Tiziana Bolognani che si troverà poi nella zona di Passo Fedaia quindi sotto proprio la zona del Ghiacciaio in attesa di cercare di collegarci con Matteo il 18enne che ci ha scritto per raccontarci di essere appunto un testimone oculare quindi lo sentiremo per avere da lui il racconto di quegli istanti terribili quella escursione con il nonno con il papà e poi quella la sensazione di dover tornare indietro perché il tempo non era non era buono e poi il crollo il crollo del ghiaccio e quel rumore e quel rumore terribile però vedo che abbiamo vedo che abbiamo l'assessore regionale alla protezione civile Gian Paolo Botacin grazie assessore buongiorno buongiorno a tutti ecco qua allora guardi grazie per queste condizioni complicate aver trovato il tempo per collegarsi con noi allora ho letto poco fa in diretta quelle comunicazioni che proprio lei e la protezione civile ci hanno fatto restiamo pure con l'assessore cioè che fondamentalmente le temperature record registrate insomma ma tutto quello che noi stiamo raccontando anche dal punto di vista emozionale questo è ovvio e dei tempi che stiamo vivendo eh niente è complicato purtroppo vedete è difficile è caduta di nuovo la linea non riusciamo perché l'assessore Botacin d'altronde lo dicevamo si sta spostando da un punto all'altro eccolo qua si sta ricollegando vedo vedo aspettiamo ecco assessore se mi sente giusto per capire cioè non è una cosa che succede per un picco di caldo di poche settimane ho inteso bene quello che lei ci ha spiegato con quel comunicato l'inerzia di un di un ghiacciaio non non è che sia molto lunga quindi non è che basta qualche giorno di caldo per creare quello che è successo d'altro canto abbiamo nei nostri archivi dato che risale al 95 qui la temperatura è vedete stava per dire immagino la temperatura ha raggiunto i 15.7 gradi centigradi che è quello che dicevamo nel comunicato letto poco fa le informazioni che avevamo ricevuto quindi il 20 luglio del 1995 addirittura in vetta si è raggiunto una temperatura di 15.7 gradi centigradi ecco assessore la vediamo di nuovo prego dicevo che abbiamo nei nostri archivi un dato e cioè che nel 95 è capitato che la temperatura appunto nella zona abbia toccato quasi 16 gradi centigradi quindi più di 5 gradi superiore rispetto a quanto era ieri in quell'occasione non ci furono distacchi questa volta sì è un processo che è molto più lungo proprio in virtù del fatto che l'inerzia di un ghiacciaio non è breve e quindi non è che bastano basta qualche giorno di temperatura alta perché si crea in questo distacco sono riprese le ricerche giusto però nel contempo abbiamo letto anche che si sarebbe talmente stratificato solidificato che è complesso si può fare ricerca solo in superficie esatto ricerca solo in superficie vediamo se Bottacini ci sente ma come vedete appunto si sta spostando la rete è poca per di più nelle aree di montagna e quindi non possiamo certo chiedere all'assessore di fermarsi insomma in questo momento è più importante che coordini le operazioni ecco assessore la rivediamo di nuovo cioè si è talmente solidificato questo crollo che è complesso fare le ricerche abbiamo capito bene? si è assolutamente complesso fare le ricerche prima di tutto perché è molto pericoloso nel senso che c'è stato un distacco ieri potrebbe esserci anche potrebbero esserci ulteriori distacchi e quindi operare sotto è assolutamente pericolosissimo però le ricerche vengono effettuate stamattina con l'utilizzo di droni e qualora dovesse essere rinvenuto qualcuno o qualcosa che succede con l'elicottero quindi vengono trasportati i soccorritori portati sul posto per fare proprio nell'immediatezza il recupero e poi portati in zona sicura che è quello che è accaduto con il settimo ritrovamento Assessore davvero le chiedo l'ultima cosa perché la lasciamo lavorare se ha possibilità stasera ci rivediamo all'inizio di ring come c'eravamo detti se riusciamo a riepilogare queste due giornate insieme per capire il punto dell'intervento adesso cosa si può fare cioè prioritario è che quell'area sia interdetta per il resto dell'estate almeno guardi l'area è interdetta perché so che fate ordinanze dai sindaci di Roccapietole di Canatei ancora nella giornata di ieri e quindi l'area è interdetta ovviamente le operazioni continuano come lei diceva cosa bisogna fare continuare nelle operazioni di ricerca sempre utilizzando i droni proprio in virtù del fatto che la situazione è pericolosa oggi è stata sospesa l'operazione di ricerca per qualche tempo perché c'è stato un peggioramento delle condizioni ci sono stati peggioramenti in medio e pertanto era necessario sospendere per chi non era possibile continuare l'effettuazione poi dopo appena il tempo è migliorato si sono immediatamente riprese le operazioni di ricerca sono però molto complicate perché l'area è molto molto estesa Assessore è vero che sia dal versante Trentino non so se da quello Veneto c'è anche il problema incredibile della follia dei turisti curiosi dell'orrore è così tanto che ci sono stati diversi appelli a non avvicinarsi alle zone nonostante le ordinanze ma guardi questo accade purtroppo sempre quando ci sono situazioni emergenziali ed è una delle cose peggiori a cui possiamo assistere io non posso fare altro che lanciare l'appello di non andare a recarsi in quelle zone perché è pericoloso e perché stanno operando dei soccorritori che hanno bisogno di avere spazi liberi certo anche perché poi mettono a repentaglio la vita stessa non solo la loro ma anche la vita stessa dei soccorritori senta le persone reclamate altamente è probabile che siano finite per quella violenza della frana nel crepaccio assessore ma guardi non lo so dove ripeto il fronte è molto vasto l'area treciata è molto vasta e quindi ripeto si continua nella ricerca la speranza ovviamente rimane sempre è chiaro che più passano le ore più la speranza si riduce però rimane ancora e infatti confermiamo che le ricerche continueranno oggi e continueranno anche le impossibili ecco assessore possiamo dire che alla fine erano forse due le cordate coinvolte per capirci una di quella dei vicentini e l'altra quella di stranieri per cercare di capire alcune cose alcune certezze che possiamo comunicare ma risultano sì due gruppi due cordate adesso poi sulla provenienza come fossero distribuiti non sono in grado di dare una risposta certo va bene c'è qualcosa che lei si sente dire in questo momento diciamo anche come appello chiaramente di non raggiungere di certo quelle aree lì abbiamo visto impianti risalite che hanno chiuso volontariamente proprio anche per evitare non solo per il rispetto ma anche per evitare di portare altre persone in quota in queste ore delicate no? bisogna cercare di rimanere distanti dall'area che dicevo prima dopodiché ovviamente le operazioni le continuiamo ringrazio tutti i soccoritori perché la macchina di soccorsi viene stata tempestiva immediata coordinata hanno contribuito la provincia autonoma di Trento la provincia autonoma di Bolzano il Veneto con tutti gli uomini donne e mezzi che erano disponibili e ovviamente si fa e si continuerà a fare tutto il possibile per cercare di garantire appunto il massimo di soccorso grazie davvero Assessore Gianpaolo Bottacini grazie buon lavoro a lei e a tutta la sua squadra grazie buona serata grazie Assessore allora abbiamo fra pochissimo un collegamento importante perché è stato raggiunto abbiamo raggiunto Matteo il 18enne di Oderzo che ci ha scritto quella mail il testimone oculare prima intanto andiamo subito da lui un aggiornamento sempre che mi funzioni il cursore e sempre che qualcuno non stia usando l'Ansa in questo momento spero che eccola qua dicevamo le tre vittime accertate Filippo Bari 27 anni residente a Malo Tommaso Carollo era un manager 48enne di Tiene molto conosciuto nell'Alto Vicentino e Paolo Dani guida alpina di Valdagno queste sono le tre vittime accertate mentre a Tezze sul Brenta e a Cittadella si attende una ufficialità per Davide Miotti e Erika Campagnaro che risultano tra dispersi ma vedo vedo che abbiamo in collegamento e lo ringraziamo di essere stato così veloce nel collegamento subito dopo la mail che ci aveva scritto Matteo Battistella buongiorno Matteo buongiorno ecco allora tu ci hai scritto adesso faccio vedere anche la foto che tu hai mandato che tu ci hai mandato e che racconta proprio un'ora prima che crollasse il Serraco le possiamo alternare queste immagini anche con il crollo della torre del video del crollo della torre di ghiaccio allora Matteo per chi non avesse sentito prima cosa abbiamo letto della tua della tua mail raccontaci voi eravate lì siete partiti siete arrivati quando più o meno a che ora tu tuo papà e tuo nonno sì allora eravate lì a che ora più o meno beh abbiamo deciso di aggiungere la capanna a ghiacciaio che è rifugio un po' sopra del piano dei sciacconi e dopo una breve sosta lì abbiamo deciso di andare ai piedi del ghiacciaio comunque di passare un po' di tempo lì dove poi abbiamo fatto la pausa franto e siamo restati là una mezz'oretta perché comunque con il clima anche fresco che c'era si stava veramente bene e dopo appunto aver terminato la sosta verso le 12.45 siamo ripartiti e durante la discesa diciamo nei pressi del forte austro-ungarico della prima guerra mondiale abbiamo anche trovato comunque una coppia toscana che ci ha chiesto quanto quanto mancasse comunque al raggiungimento del rifugio e appunto le abbiamo detto circa un'oretta poi c'era il tempo che stava cambiando e comunque le abbiamo consigliato di iniziare la discesa di tornare indietro per fortuna ci hanno ascoltati e dopo una ventina di minuti dopo diciamo questo incontro con questa coppia proprio durante una breve pausa per bere comunque per fermarci un attimo è stato abbiamo detto questo suono molto forte questo rombo molto forte e ci è venuto in mente comunque magari un aereo a bassa quota o il temporale che si stava avvicinando e girandomi quasi istintivamente verso la montagna ho potuto vedere questa quest'onda appunto la valanga che veniva giù Matteo scusami ma siete voi nel video quindi che stiamo mostrando o no siete voi quei due no no ah ok siamo quelli penso che stessero raggiungendo punta penia più in su noi eravamo molto più in giù però tu hai detto una coppia toscana e che per fortuna vi ha ascoltato quindi è tornata indietro ecco allora un boato come quello di un aereo a bassa quota è questo il rumore che avete sentito sì sembravano un cazzo comunque diciamo la situazione ad oggi è molto instabile però un caccia che appunto volava a bassissima quota comunque un rombo assordante e poi siamo arrivati nei pressi del lago lago di Fedaia dove appunto c'era c'è un bar comunque delle persone che anche da lì avevano assistito e chiedendoci da dove arrivavamo e rispondendo appunto dai piedi di acciaio ci hanno chiesto se magari potrebbero essere state coinvolte delle persone o comunque se avevano visto qualcosa in più rispetto a loro però diciamo non è io non conoscente diciamo della via normale che poi raggiunge Punta Rocca speravo veramente vivamente che non ci fossero persone qui involte ma purtroppo poco dopo sono stato smentito tu scusami scusami Ferdinando avete incontrato altre persone nella coppia toscana nel vostro passaggio sì proprio poco dopo che si è sedito il rombo c'erano due ragazzi che stavano salendo che come noi avevano sentito appunto il boato e essendo essere leggermente sotto quindi non riuscendo a vedere la situazione comunque ci avevano chiesto cosa fosse stato appunto la valanga quindi anche loro diciamo ci hanno seguito fino a prima del boato avevate incontrato qualcun altro a parte la coppia toscana oltre la coppia toscana no nessun altro però c'era qualcuno diciamo nei pressi del rifugio distrutto dei scerponi che stava continuando a salire probabilmente per raggiungere l'altro rifugio quindi spero veramente che siano tra quelli tra quelli lesi tu dicevi era una bella giornata la temperatura era faceva questo caldo anomalo vi ha sorpreso questo caldo anomalo allora diciamo abituato alle temperature della pianura che in questi giorni sono diciamo asfissianti comunque quei 14 gradi facevano differenza anche a livello conoscitivo delle temperature della pianura però essendo un amante della montagna comunque non era una delle prime escursioni che facevo sia sulla marmolada che nelle altre montagne delle dolomiti comunque 14 gradi soprattutto a quella quota sono molto elevate ed era una cosa che vi preoccupava mentre salivate ci avevate pensato si fa questo pensiero non solo un esperto della montagna o un appassionato ma tra chi è esperto tra chi fa queste escursioni un ragionamento del genere è un ragionamento che preoccupa andando su non ci si pensa sconoscendo la storia del ghiacciaio si può cadere anche a volte in un tranello che comunque la differenza comunque che c'è tra la temperatura della pianura e la temperatura della montagna può diciamo sviare anche dal ragionamento più ambio che quindi possa coinvolgere anche la situazione del ghiacciaio sembra fresco sembra fresco e quindi non si dà tanto peso al fatto che invece per la montagna è molto caldo questo è il concetto queste sono immagini in diretta con Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi credo che si che fra poco ci collegheremo Matteo grazie grazie davvero per essere l'ultima cosa che ti chiedo Matteo appassionato di montagna giovanissimo 18 anni se non sbaglio è vero sei di Oderzo questa cosa qui questo evento cosa ti insegna che tu hai assistito e immagino che il pensiero sia stato potevamo esserci anche noi là sotto cambia qualcosa per te per la tua passione per la montagna cosa cambia cosa ti insegna diciamo che questo fatto comunque assistere a una valanga così anche diverse proporzioni in estate e a diciamo a questa giovane età comunque fa pensare e riflettere e diciamo che anche il tema dell'ambiente della situazione ambientale della crisi climatica è stata anche la mia scelta nel nel tema di italiano che ho affrontato alla maturità ma anche un argomento che ho anche affrontato all'orale che quindi comunque mi sta a cuore che comunque è necessario un cambiamento radicale partendo soprattutto dalla concezione anche che ha la politica la maggior parte della politica e comunque azioni forti che ma riescano anche dalle convenzioni delle passate conferenze sul clima e quindi anche di anticipare questi obiettivi che comunque i governi si sono prefissati Matteo ti rubo un'ultima battuta diciamo tu hai fatto la via normale perché non ho mica capito se forse invece hai fatto hai percorso un'altra strada noi ci siamo ci siamo fermati al rifugio capanna del ghiacciaio e poi siamo andati proprio ai piedi senza andare su perché comunque non avevamo l'attrezzatura quindi ramponi picconi diciamo che quella giornata non doveva neanche essere non dovevamo neanche essere là perché però prudentemente non attrezzati avete scelto di non proseguire giusto? ma non era neanche diciamo nei nostri piani perfetto grazie grazie Matteo Battistella per essere stato con noi e averci raccontato quello che hai visto purtroppo nella giornata di ieri grazie ciao buona sera allora grazie anche ragazzi della redazione Anna De Roberto Cristian Arvoit Marta Maragon che l'hanno rintracciato in tempo reale siamo collegati di nuovo con Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi e un'immagine ah c'è la pubblicità? sì allora facciamo così andiamo in pubblicità e poi andiamo da Tiziana questa immagine emblematica racconta più di tante parole quello che è successo pubblicità e poi andiamo da Tiziana rieccoci rieccoci in diretta e torniamo a collegarci con Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi che nel loro viaggio di oggi nel loro reportage di oggi sono tornati in Veneto dopo aver sconfinato in Trentino Alto Adige per questa lunga diretta insomma di oggi da Canazei siamo tornati nel Bellunese siamo tornati e dovremmo essere nella zona di Passo Fedaia se non sbaglio e questa immagine ci racconta tutto di quello che è successo Tiziana mi senti? non so se mi sente Tiziana fatemi capire se mi sente Tiziana beh già questa immagine comunque è questo che ci metto un scenario meraviglioso ma purtroppo sappiamo quanto manca quello eccola qui Tiziana che è accaduto Tiziana sei in diretta non so se tu ci senti no non sento va bene allora attendiamo qualche istante però se ti ha risposto forse ci senti eh no credo lo stesse dicendo Stefano che credo che si disessero Bozzi vediamo qualche servizio allora vediamo il servizio con Mario Conte che ricorda anche il sindaco di Treviso il presidente dell'Anciveto ricorda di essere passato tre anni fa proprio nello stesso punto e credo in questo servizio lanci tutta la sua solidarietà al sindaco De Bernardi dei Rocca Pietro e vediamo il servizio ma l'importante è che non si cerchi il capro espiatorio sempre nella persona del sindaco perché poi alla fine spesso abbiamo visto questa cosa succedere perché se decidiamo che le Dolomiti vanno chiuse e non ci si può più andare nessuno ed evacuiamo anche gli abitanti che ci abitano che ci abitano dentro allora è un'operazione che che va fatta a livelli superiori se decidiamo che le Dolomiti sono ancora fruibili e i villaggi ancora abitati io credo che tutto possa succedere perché le montagne si sa che vengono giù purtroppo le montagne vengono giù usa la solita chiarezza Andrea De Bernardin sindaco di Rocca Pietro che sta operando a stretto contatto con il collega di Canazei insieme in mattinata hanno emesso un'ordinanza di interdizione dell'area su entrambi i versanti del massiccio Bellunese e Trentino lo stesso questore di Trento ha chiesto agli escursionisti di non avvicinarsi al luogo della tragedia immediata anche la replica a chi ora dice che quella zona vista le temperature eccezionali doveva essere già chiusa da giorni dico semplicemente che quelle stesse persone che stanno dicendo questa cosa pochi giorni prima invitavano via Facebook ad andare in cima alla marmolada a guardare l'alba quindi se ci riferiamo al gestore della capanna a punta penia trovo sgradevole proprio le sue dichiarazioni sgradevoli e inopportune solidarizza il presidente di Anciveneto il sindaco di Treviso Mario Conte la prima telefonata che ho fatto ieri è stata proprio a lui nel senso che questa è la fase dove bisogna cercare ricercare le persone disperse stringersi attorno al dolore delle persone che non ci sono più e non lasciarsi andare nel giudicare nel condannare o puntare il dito contro qualcuno questa è una tragedia naturale pensate che riguardavo le foto tre anni fa al 7 luglio io mi trovavo esattamente in quel ghiacciaio sono partito bevendo un caffè proprio da Bernardine e sono andato su fino a Punta Penia a essere sotto shock è l'intera comunità di Roccapietore già provata recentemente dalla forza della natura c'è una grande tristezza anche fra la mia la mia gente perché Roccapietore ha già dei dei luoghi turistici bloccati dopo vaia questa è un'ennesima tragedia che colpisce anche noi in maniera forte ci sono due aggiornamenti Nicola intanto scende a 13 il numero delle persone oggetto delle ricerche dopo la frana l'abbiamo chiamati dispersi o reclamati un escursionista austriaco infatti che figurava nella lista dei dispersi è stato contattato dalle autorità consolari austriache ed ha dato notizie poco fa quindi 13 il numero dei dispersi però quindi è vivo l'hanno trovato era altrove mi stavi dicendo che Davide Miotti sarebbe ufficialmente tra le vittime riconosciute questo è l'ultimo aggiornamento e purtroppo aspettavamo solo questo e un altro invece non so se Tiziana e adesso ci sente ci può aiutare ci sarebbe stato un altro piccolo crollo proprio nella zona della frana di ieri l'area sommitale quindi un altro piccolo crollo registrato nel pomeriggio di oggi insomma poco fa Tiziana ci senti? Adesso sì adesso sì vi sento prima c'era stato un black out ma era colpa del mio telefono allora siamo come avevamo promesso siamo saliti lungo la strada che porta al passo Fedaia quello che dicevi tu Ferdinando è corretto poco fa c'è stato anzi nel pomeriggio c'è stato un altro distacco ed è stato probabilmente anche una concausa il fortissimo temporale che si è scatenato nelle ore centrali di questo lunedì di lutto e di dolore ha sicuramente aiutato lo scivolamento di altro materiale che era rimasto come dire in condizioni instabile con Stefano vi facciamo vedere un luogo di osservazione siamo non al passo Fedaia ma è proprio lungo la strada che porta al passo Fedaia perché è un luogo di osservazione privilegiato dove ci fa vedere in tutta la sua grandezza l'enorme cratere che si è creato dopo il distacco del Seracco ed è impressionante questa mattina aveva un colore ora ne ha un altro ma ci stiamo avvicinando nell'ora del tramonto e tra qualche ore queste montagne queste rocce si coloreranno del rosa dell'enrosadira il fenomeno naturale che illumina le montagne di un colore le dolomiti di un colore davvero unico il capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio prima l'aveva detto si critica tanto il nostro paese però in 36 ore abbiamo dato la migliore risposta che potevamo e infatti da quando siamo arrivati qui è un via vai di elicotteri un altro appena finito una operazione di sorvolo della zona che è interessata dalla valanga di ghiaccio e di massi che si è verificata che è accaduta ieri nel primissimo dopo pranzo ecco c'è l'elicottero che si sta avvicinando ma almeno ne abbiamo contati nel giro di 10 minuti un quarto d'ora ne abbiamo già contati 4 di elicotteri che si stanno dando il turno e continuano a sorvolare la zona per cercare tanto di osservare dall'alto che cosa sta accadendo e poi assieme ai droni cercare di individuare se possibile superstiti cosa che già da ieri sera si dava per ipotesi non plausibile e non facilmente verificabile nel senso che è complicato immaginare difficile immaginare che quell'evento abbia lasciato in vita le persone travolte e lo diciamo chiaramente con la crudeltà che purtroppo la cronaca impone quando ci si trova davanti a eventi drammatici naturali di questo di questo genere e vi dicevo assieme agli elicotteri l'area è continuamente sorvolata c'è stata solo un'interruzione oggi quando si è scatenato il temporale per all'incirca tre ore tre ore e mezza le ricerche sono state sospese è stato impossibile anche perché nella zona si è alzata la nebbia sono scese le nubi quindi la visibilità era scarsa per non dire assente quindi uno scenario per i soccorritori davvero impraticabile tanto che per tre ore c'è stato un momento di sospensione delle operazioni di ricerca e soccorso in Valanga che cosa resta di oggi resta sicuramente l'immagine del presidente Draghi che è voluto salire a Canazzei per rendere onore intanto alle prime vittime che sono state ricomposte portate nello stadio del ghiaccio di Canazzei per dare sostegno alle famiglie delle persone che sono state reclamate al numero che è stato reso attivo dal sin dal primo pomeriggio di ieri Draghi ha detto l'Italia e tutti gli italiani il paese piange le vittime il governo però ora deve riflettere e prendere provvedimenti noi contiamo che queste non siano solo parole ma che siano impegni seri per davvero seri che la questione dell'emergenza climatica venga presa letteralmente in considerazione perché non si può andare avanti così e voi lo sapete quali sono state le polemiche anche dopo lo scoppio della guerra fra Russia e Ucraina che ha come dire anche stravolto le prospettive proprio a causa delle restrizioni che sono state che sono state imposte e che hanno messo in allerta sul frazionamento del gas e sul ripristino delle centrali a carbone la qualcosa sarebbe per davvero come dire la pietra tombale su tutte le politiche che vengono invocate oramai da anni per dare una mano al nostro pianeta ecco quindi a questo punto ci si aspettano delle politiche importanti oltre al fatto che le prime cose che debbono essere fatte sono quelle che riguardano la tutela di un territorio che è assai fragile lo ha dimostrato il ghiacciaio della marmolada un ghiacciaio cui i ricercatori hanno posto la massima attenzione sotto l'attenzione dei ricercatori degli studiosi degli esperti abbiamo visto l'auto degli studiosi di università di Padova e di Pisa che si recano sul ghiacciaio della marmolada in maniera sistematica per fare ve lo dicevamo sorte di carotaggi per capire qual è la consistenza del permafrost che è quello strato diciamo che dà la certezza del ritiro del ghiacciaio più si riduce il permafrost e più il ghiacciaio si ritira questo è quello che sta accadendo e questo è quello che hanno verificato gli studiosi in questi anni e che continuano a fare con i loro monitoraggi perché l'hanno detto lo studio del ghiacciaio della marmolada delle condizioni del ghiacciaio della marmolada è il segnale di riconoscimento sull'evoluzione climatica non solo della provincia di Belluno non solo del Veneto non è una cosa locale ma è una cosa che si riverbera a livello mondiale e poi il presidente Fugatti mentre continuano gli elicotteri ecco ce n'è un altro probabilmente è un elicottero del soccorso alpino perché il colore mentre l'elicottero che volava poco fa era l'elicottero grigio immagino fosse l'elicottero grigio verde della guardia di finanza adesso c'è di nuovo l'elicottero giallo immagino del soccorso alpino del SUEM che sta nuovamente sorvolando la zona dove c'è il cratere dove è caduta quell'enormità di materiale che già si è solidificato il presidente della provincia autonoma di Trento ha ringraziato chiaramente il presidente Draghi per la dimostrazione di vicinanza e di attaccamento al territorio ma manifestazioni di solidarietà sono arrivate questa mattina subito ai presidenti delle due province autonome di Trento e Bolzano al presidente della regione del Veneto Luca Zaia dal capo dello Stato Sergio Mattarella che ha ringraziato per il coraggio dei soccorritori e si è stretto al dolore delle famiglie dolore profondissimo il presidente Zaia lo avete visto durante la conferenza stampa e poi successivamente anche quando siamo riusciti ad intervistarlo fuori dall'aressa dei colleghi giornalisti che sono arrivati qui da ogni parte non solo d'Italia ma d'Europa e qui è diventato il cuore nevralgico della informazione perché l'evento ha evidentemente portata mondiale il presidente Zaia l'avete visto commosso come non mai per quanto accaduto tre le vittime venete più sette persone disperse e ha fatto questa amara addizione sette più tre potrebbero essere dieci sarebbe davvero una catastrofe per la nostra regione comprensibile lo sgomento il dolore del presidente Zaia sgomento e dolore che si prova concludi concludi siamo proprio in chiusura vai vai sgomento e dolore vi dicevo che si prova ve lo dico con grande sincerità proprio davanti a questo buco di fronte alla marmolada ci si sente delle nullità perché l'immensità di questa montagna che non a caso viene chiamata denominata regina delle dolomiti ecco l'immensità di questa la maestosità di questa montagna ci fa sentire davvero davvero piccoli eppure la maestosità della regina ha avuto si è incrinata questo provoca un grande grandissimo dolore in tutti noi non solo negli amanti della montagna negli amanti di questo territorio la supplica da tutti dagli ambientalisti che abbiamo anche incontrato abbiate cura bisogna avere cura di questo territorio e una preghiera rivolta alle persone che sono morte sotto questa tremenda frana valanga io ringrazio ringrazio voi ringrazio per la collaborazione preziosissima Stefano Bozzi noi ci rivediamo domani ci rivediamo domani vi restituisco la linea ci rivediamo domani in prima edizione per tornare a raccontare delle ricerche e poi tutti gli aggiornamenti grazie grazie Tiziana Bogliani davvero per questo lungo viaggio grazie a voi buon lavoro con Stefano Bozzi un lavoro preziosissimo certo questa immagine insomma è un'immagine che resterà è un'altra delle immagini che resteranno di questa di questa tragedia pubblicità poi l'ultimo l'ultimo aggiornamento prima di salutarci e lasciare la linea ITG Rieccoci in diretta abbiamo un minuto poi ci salutiamo e chiudiamo questa nuova edizione straordinaria che è iniziata alle 11.15 di questa mattina per raccontarvi in diretta un po' tutti gli aggiornamenti della tragedia della marmolada ricordiamo questa sera Ring anzi ricordiamo anche il sondaggio che abbiamo lanciato a Ring questa sera 21.15 perché è chiaro che insomma col passare delle ore molte domande ce le stiamo facendo tutti quanti che cosa si possa e si debba fare da adesso in poi la visita del premier Draghi marmolada è colpa dell'uomo cioè qualcosa in più va deciso anche dai grandi della terra come abbiamo visto scrivere in molti commenti in queste ore che cosa fare adesso anche per preservare la nostra montagna perché dopo un dramma di questo tipo e che ha ancora purtroppo delle cifre non definitive dovremmo capire quali sono le mosse da fare sono in corso ricerche non c'è niente ok allora abbiamo detto che purtroppo poi nel corso del pomeriggio c'è stato un altro distacco proprio nella stessa zona quindi è fortemente ancora critico e pericoloso intervenire a linee parleremo stasera a Ring a partire dalle 21.15 con molti ospiti ovviamente collegamenti e tanti servizi noi chiudiamo qui questa edizione straordinaria domani fra pochissimo ci sono i telegiornali telegiornali del vento poi di Venezia di Treviso poi c'è Ring domani dalle 12 di nuovo qui per raccontare tutti gli aggiornamenti della tragedia della marmolada arrivederci grazie 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 a tutti.